Beni per un valore di 165 milioni di euro, fra i quali 92 immobili, un hotel, aziende, una villa con piscina, una Ferrari e una Porsche, sono stati sequestrati dai carabinieri di Napoli questa mattina su disposizione della direzione distrettuale antimafia. I beni, secondo gli investigatori, sono riconducibili a un imprenditore campano indagato per estorsione e trasferimento fraudolento di beni in concorso con altre nove persone. Le società erano intestate a prestanomi e, secondo l'accusa, avevano rapporti economici con personaggi al vertice di clan di Camorra. Nelle indagini si è saputo dai carabinieri, il nucleo investigativo di Castello di Cisterna ha ricostruito il tenore di vita sproporzionato dell'imprenditore e i rapporti che hanno consentito di ricondurre a lui le società sequestrate, risultate poi intestate a prestanomi e i rapporti economici con personaggi al vertice di sodalizi camorristici attivi in tutta la provincia di Napoli.